Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati nel mio canale. Allora, questo è un video molto speciale che voglio fare perché ho raggiunto finalmente i mille iscritti. Vi ringrazio veramente di cuore che mi seguite, ogni giorno siete sempre di più. Detto questo, questo appunto è un video, mi dicevo, molto speciale perché io ho avuto l'onore di parlare con uno di voi, con una persona che segue tutti i miei video, ho dato un'occhiata al suo canale, è veramente un bel canale, stupendo, e quindi vi invito appunto ad iscrivervi a questo canale. Adesso vi faccio vedere di che canale si tratta, ecco che vi metto appunto la foto. Se non l'avete riconosciuto, praticamente lui ha fatto parte di un programma televisivo cantando Rosse e Rosse, io mi sono molto divertita vedendolo in televisione, veramente molto divertente, e spero veramente che lui appunto farà dei video come ha fatto appunto quando è finito in televisione, perché lì mi ha fatto veramente ridere, veramente ridere un sacco, quindi vi invito ancora una volta a seguirlo anche qui.